Un giovane promettente per completare una squadra già competitiva per la prossima stagione di A1. L'ultimo colpo della scoppiettante campagna acquisti della pallavolo Molfetta si chiama Elia Bossi, triestino, classe 94. Il giovane pallavolista è un centrale di ben 202 cm di altezza. Cresciuto tecnicamente nella pallavolo Modena, dove lo scorso anno coach Lorenzetti lo ha promosso in prima squadra, ha cominciato la carriera a Monfalcone, in provincia di Gorizia, prima di sbarcare nel settore giovanile gialloblu dopo il trofeo delle regioni 2009. Nell'Under 20, il modenese Elia Bossi ha conquistato il secondo posto nella Junior League del 2011. Nel 2013 ha ottenuto il premio come miglior centrale del campionato italiano Under 19. Lo scorso anno, come detto, la promozione in prima squadra nel Modena, dove ha potuto rubare i segreti a gente del calibro di Andrea Sala e Thomas Beretta. Ora la nuova avventura in Superlega con la casacca della pallavolo Molfetta.